Si chiama Scuole in Rete 2.0 ed è l'iniziativa presentata a Fano in favore degli istituti comunali. Da oggi, nelle 18 scuole elementari e medie della città, sarà possibile connettersi gratuitamente grazie all'installazione della rete Wi-Fi. L'intervento prevederà poi un altro stralcio nel mese di ottobre che coinvolgerà altre 25 strutture, i nidi e le materne. L'innovazione riuscirà a garantire un nuovo modo di fare didattica, visto che Internet è diventata la più grande fonte di documentazione a servizio di cittadini, imprese e alunni che potranno consultare materiale online, guardare video o partecipare a videoconferenze. Connessioni che forniremo gratuitamente con un risparmio complessivo sui 5 anni di circa 80.000 euro, per cui un ottimo intervento che consente di aumentare i servizi, di migliorare la qualità e di ridurre fortemente i costi per la collettività, in particolare per le scuole. Quindi un passaggio importante per la città, non solo per le scuole e un passo in avanti sull'innovazione tecnologica. Con un bando di gara l'amministrazione comunale ha sollecitato poi competitor locali a proporsi per una convenzione. Abbiamo quindi, per dare anche una trasparenza all'attività della pubblica amministrazione, pubblicato una manifestazione di interesse per qualsiasi operatore economico che ovviamente lavorava nel settore, avesse voluto approfittare di questa occasione per dare questo servizio alla cittadinanza con l'utilizzo di posizionamento delle loro apparecchiature in edifici di nostra proprietà senza nessuna spesa. In contropartita ci hanno dato questa connettività gratuita per le scuole principali e una scontistica particolare per gli altri edifici che verranno poi installati successivamente. Dopo uno studio preliminare sui siti di ricezione e distribuzione per la quale è utilizzato il sito della Torre Civica si è passati alla gestione della gara e poi all'installazione. Adesso c'è una fase ancora intermedia che è la fase di connessione del sito principale di distribuzione su una banda che è ancora 150 megabit paralleli per arrivare a raddoppiarla e potenzialmente con la fibra arrivare fino al massimo che si può con questo tipo di infrastrutture. Quindi per adesso iniziamo bassi e poi possiamo abbliare in maniera praticamente infinita.